Ciao a tutti amici di seblogappsblogspot.com vediamo oggi un altro tutorial molto semplice per familiare sempre di più passo dopo passo con MIT App Inventor diciamo MIT o MIT a seconda se vogliamo essere più anglofoni o meno ci dirigiamo come sempre alla pagina appinventor.mit.edu questa volta ancora in inglese e clicchiamo su create se abbiamo già fatto il nostro primo progetto tolto.me che abbiamo visto l'altra volta ci ritroveremo subito all'interno di questa schermata diamo il continue sulla finestra delle novità e ripartiamo da dove eravamo rimasti vogliamo aggiungere un paio di componenti più divertenti a questo progetto molto semplice per prima cosa vogliamo salvare il progetto originale tolto.me quindi diamo il save as e lo chiamiamo tolto.me 2 con molta fantasia in modo che copi il nostro progetto originale lo lasci su tolto.me e il tolto.me 2 sarà esattamente la copia del tolto.me attualmente aggiungiamo un componente dalla palette sensor chiamato accelerometer sensor che è un altro componente non visibile quindi andrà qui sotto per ogni componente se vogliamo sapere a grandi linee cosa fa possiamo cliccare il tasto punto di domanda dove ci spiega in inglese quali sono le sue caratteristiche base poi con more information si apre una pagina di help in dettaglio ora che abbiamo aggiunto il componente accelerometer sensor vogliamo programmare la sua funzione quindi ci portiamo nel blocks editor e vediamo che nei blocks ci ha aggiunto il componente accelerometer che come avrete potuto indovinare interagisce appunto con l'accelerometro del nostro cellulare clicchiamo per vedere quali sono le sue proprietà e i suoi metodi allora ha degli eventi queste in marrone sono gli eventi che vengono generati e queste in verde sono le sue proprietà allora c'è l'evento shaking ovvero quando viene shakerato, agitato il telefono viene prodotto questo evento quindi cosa vogliamo fare alla rilevazione del movimento del telefono del movimento veloce di shaking vogliamo fargli dire una frase allora possiamo prendere questo blocco dare se siamo su windows ctrl c qua poi ci spostiamo ctrl v vedete che fa un copia e incolla questa volta vogliamo mettergli un'altra frase un qualcosa di divertente per favore smetti di scuotermi anche con la faccina che ride ora per provare la nostra applicazione andiamo a connetterci con l'app inventor companion come vi ho fatto vedere nel primo tutorial quindi do lo scan di questo QR code sul mio telefono che a breve vi farò vedere questo è il mio telefono ve lo faccio vedere con questo bellissimo programma bbq screen che vi fa vedere praticamente tutto quello che appare sul vostro telefono sul vostro pc se siete interessati lo trovate nel play store do lo scan QR code e vado a scannerizzare il codice a barre così fra qualche secondo partirà la nostra applicazione modificata eccola qui con il parlami ora quindi se clicco su parlami ora come prima abbiamo questo testo se invece agito il telefono ovviamente non vedete che si shakera posso fare così e praticamente sentite l'evento che viene generato con un accento altamente improbabile ma la sintesi vocale di android non è proprio il massimo della vita bene a questo punto magari vogliamo ampliare ancora la nostra applicazione e fargli fare qualcosa di un po' più carino tipo pronunciare un testo che viene inserito dall'utente quindi torniamo su design editor andiamo in text box ed aggiungiamo una text box la text box praticamente è una casella dove l'utente può inserire un testo a piacimento a questo punto andiamo di nuovo nel blocks editor non vogliamo più che dica un messaggio predeterminato sempre questo quindi lo spostiamo nel cestino per buttarlo via ma vogliamo che dica quello che è stato inserito dall'utente quindi andiamo a vedere di nuovo eventi e proprietà del componente text box quindi nel nostro caso siamo interessati al contenuto del text box quindi è text box one text praticamente questo ha quello che viene inserito dall'utente in questa casella di testo e quindi alla pressione del pulsante parlami dirà quello che l'utente ha inserito andiamo di nuovo a testare la nostra applicazione vediamo sull'emulatore qua c'è questo hint for text box questo praticamente è il suggerimento su quello che l'utente deve scrivere quindi potremmo scrivere qua dimmi cosa vuoi che dica oppure anzi scrivi cosa vuoi che dica eccoci qua quindi scrivi cosa vuoi che dica se clicco qui e vado ad inserire per esempio oggi fa molto freddo vero? punto di domanda a questo punto se clicco parlami ora avete sentito che dice quello che ho scritto nella text box abbiamo realizzato anche questo secondo tutorial come vedete molto semplice però potrebbe essere uno spunto per esempio per fare un'applicazione che dica delle frasi a caso oppure un'applicazione che non lo so preveda il futuro prendendo sempre delle frasi da un database che in base a come scuotiamo il telefono pronunci queste frasi vi è piaciuto questo tutorial venite a trovarmi sul canale youtube seblog2k fate il pollice in su al video che avete appena visto e per gli approfondimenti venite sul blog seblogapps.blogspot.it dove trovate un forum di discussione e l'elenco di tutti i tutorial finora realizzati ci sentiamo presto ciao